Ovviamente la vita quotidiana della famiglia disomogenea richiede forse anche un intervento esterno maggiore, laddove ci sia la presenza dei nonni molto richiesta e anche secondo me veramente importante per la crescita del bambino. La vita quotidiana andrà avanti in un modo molto più tranquillo e sereno, dove appunto se la mamma lavora tutto il giorno il bambino avrà un secondo appoggio a cui rivolgersi per qualsiasi esigenza, anche per quanto riguarda proprio la scolarizzazione e il poter giocare non soltanto con gli amichetti ma anche con una figura vicina e parentale che non è soltanto quella della mamma.